Ciao ragazze, approfitto di questo video per chiarire alcune cose che sono emerse grazie a un quesito che una ragazza ieri ha posto nel gruppo Scrap Immagina e Crea, il gruppo Facebook. Riguardo alle cuciture sulla carta. Allora, volevo, siccome ho partecipato alla conversazione, volevo approfittare del video per spiegare anche a chi non fa parte del gruppo o comunque magari si è perso il post, come faccio io per cucire la carta. Siccome le cuciture su carta sono un elemento molto importante dei miei lavori scrap, volevo appunto dirvi come faccio io. Allora, in linea generale io utilizzo la macchina per cucire quando possibile per effettuare le mie cuciture e rispetto all'utilizzo della macchina per cucire le indicazioni che mi sento di darvi sono principalmente quella di utilizzare un ago specifico per cucire sulla carta e sostituirlo nel caso in cui invece vogliate cucire la stoffa. Quindi dedicate un ago della macchina per cucire solo alle cuciture su carta. Un altro sistema per poter fare le cuciture è costituito da questo strumentino che si chiama SUEASY ed è la We Are Memory Keepers ed è composto dal manico ed ha delle testine intercambiabili di colori diversi. Io ne ho quattro. In realtà ce ne sono tantissime. Allora io ho queste quattro. La testina si inserisce nel suo alloggiamento, si ruota di mezzo giro e si fissa. Ogni testina permette di fare delle cuciture diverse. Quindi questa arancione permette di fare queste tre cuciture. Questa rosa permette di fare la classica cucitura, quindi molto semplice. Questa qui. Poi quella gialla permette di fare uno zig zag, insomma questi altri tipi di cuciture perché fa due file di buchini. Ogni testina, vedete, ha dei buchini. Mentre quella azzurra permette di fare quest'altro tipo di cuciture più circolari. Allora per chi non ha la macchina per cucire questo è uno strumentino abbastanza utile. L'unico svantaggio che secondo me ha questo strumento è che non buca molto bene la carta, cioè bisogna fare una forte pressione. E come si utilizza? Praticamente si prende un piano morbido, io in questo caso ho un pezzo di feltro, ma può essere il tappetino del mouse, il classico tappetino del mouse. Si poggia il pezzo di carta che intendiamo cucire e si fa ruotare, facendo appunto una pressione, la testina sul pezzo di carta. Allora, come potete vedere, si formano dei buchini che però secondo me non sono, cioè non è bucato bene la carta, infatti bisogna o con l'ago o con un punteruolo ripassare su ogni buchino per riuscire ad ottenere dei buchini, dei veri e propri forellini. In ogni caso permette comunque di avere una traccia per poi poter passare il filo. Un altro sistema che mi sono escogitata dopo aver visto varie volte nei video delle ragazze americane soprattutto, che loro praticamente utilizzavano una mascherina con dei buchini. Una mascherina chiaramente acquistata. Io l'ho cercata nel web, ma non l'ho trovata. Allora ho pensato di crearmene una, molto casalinga. E cosa ho fatto? Ho praticamente preso un pezzo di acetato, che in questo caso è azzurrino, ma l'acetato trasparente va benissimo. E ho scelto l'acetato proprio per la sua trasparenza. Poi cosa ho fatto? Ho preso un normalissimo foglio a quadretti dei quaderni, dei blocnotes. Ho messo il foglio a quadretti sulla base morbida e il foglio di acetato sopra il foglio a quadretti. E ho bucherellato il mio foglio di acetato seguendo i quadretti, di modo da avere i buchini a una distanza regolare. E ho fatto varie tracce. Quindi ho fatto i buchini ogni quadretto, ogni due, a zigzag, più ravvicinati, più distanziati. Insomma mi sono fatta varie tracce. Non so se si vede bene comunque. E ho ottenuto questa mascherina. Quando io devo fare le cuciture sulla mia carta, prendo il pezzo di carta che appunto voglio cucire, lo appoggio sul piano morbido, ci appoggio sopra la mia mascherina trasparente, quindi riesco a vedere sotto dove la sto mettendo. E con il punteruolo, scelgo la trama che voglio fare, con il punteruolo inizio a bucare esattamente in corrispondenza dei buchini precedentemente fatti. Questo mi garantisce di farli tutti alla stessa distanza. Adesso io vi faccio un esempio. Scelgo uno zigzag, mi faccio i miei buchini, vedete? Poi, semplicemente, prendo il filo e svolgo la mia cucitura. E come vi farò vedere, la cucitura viene pressoché regolare. Perché avendo seguito i quadretti, la cucitura viene regolare. E ho, in questo modo, avviato alla ricerca fallita della mascherina utilizzata dalle americane. Vi potete appunto fare tutte le tracce che volete ed ottenete delle cuciture assolutamente accettabili. Questi sono i miei consigli. Spero di aver chiarito ciò che dicevo ieri nel gruppo. Grazie per avermi seguito e buon cucito. Ciao ciao! Ciao!